Allora, 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 fermi tutti, prima di schippare avanti l'intro, ascoltatemi bene, non è la solita intro, codice creatore, Festo.96 mi raccomando nei negozi oggetti Ok, invece volevo dirvi che da oggi, in ogni video, troverete una parola nascosta, nascosta bene, ma la potete trovare se fate molto attenzione ai dettagli E appunto, appena troverete questa parola, voi mi dovete taggare su Instagram, e Festo.96 vi lascio qui E comunque c'è il link in descrizione, e io ogni sera, e sarò il vincitore di un bundle, di una skin, di un piccone, di un... di mille di bucks Ogni video il premio cambia. Spero che le idee vi piaccia, io vi lascio al video e vi auguro una buona visione. Ciao belli Troppo importanti le trappole in early, la gente non se lo aspetta mai Porco diaz, porco diaz Ed è un pompa, tanto Dio Ed è un pompa, tanto Dio Questa è un pompa, tanto Dio Ed è un pompa, tanto Dio Questa è un' pompa, tanto Dio Questa è un'umperietà Questa è un pompa, tanto Dio Questa è un pompa, tanto Dio Grazie a tutti Scappa figlio di puttana, scappa Mamma mia, sto godendo come un riccio Eh bevi, punti Reagans, buono, forte al mondo allora Quanto vorrei vedere in faccia quando si vede ai più punti di quello Solo per capire con chi sto parlando, eh mica peraltro Ah ma è scoperto dei bei cittadini da qua, easy by the way Sto so forte ragazzi, ma quanto so forte? No, no, dite, dite Gioco ridicolo No, a me vado a fare lo spazio, troppo tempo Non so se tenermi il singolo No, mi prende il tattico perché voglio prendere la pioggia No, se no mi tenevo il singolo Se non devo prendere la pioggia mi tenevo il singolo ragazzi Deve sto che provo a fare la blumata da 240 metri E poi perché i materiali comunque Vabbè 150 a tipo, effettivamente si poteva fare easy Ciao ziga Allora Questa è blum, eh? Ragazzi, guarda Morco di hozzo Questo è blum, qualche colpo l'ho missato io Me ne prendo le responsabilità, ma non tutti Cioè, diciamo che la metà l'ho missato io L'altra metà no Ah, non ho molti colpi Pensando di 400 Questa gente Questa gente Questa gente No, non c'hai provato a uscire E questo ne ha spaccato la schiava col tattico Oh che noia quando è venuta a passare sull'istoria che non è venuta a passare sull'istoria si però non è giusto vinto nei gol non è venuta a passare sull'istoria ok 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 La prima vittoria da biondo in un torneo Andiamo